Ritorna la coppia dei cinepanettoni classici, esce in sale il 14 dicembre distribuito dalla Medusa, Natale da Chef, diretto da Neri Parenti con Massimo Boldi protagonista. Durante la settima edizione delle giornate di cinema cinè a Riccione ci hanno raccontato. È un cinepanettoni doc, sicuramente, lo è e ci auguriamo che il pubblico corra in massa a vedere questo cinepanettoni perché quest'anno è un anno importante. È un film comico, non è una commedia, quindi è una farsa quasi e probabilmente nelle feste di Natale penso che le persone magari hanno piacere di svagarsi un pochino. Nel casta anche Biagio Izzo, Massimo Ghini, Enzo Salvi, Gianmarco Tognazzi, Dario Bandiera, Rossio Mugnoz Morales e Francesca Chillemi. I buffi saranno proprio gli chef. Sono degli chef, sì, che sono buffi in quanto ovviamente incapaci perché se fossero non si potrebbe fare ridere con degli chef bravi. Quindi c'è Massimo che è uno chef così raffinato che cucina la carbonara con i marron glacé, c'è un aiuto cuoco che ha la glottide per cui non sente i sapori e ne sente anche gli odori, c'è un sommelier a stemio, c'è una pasticcera che invece di fare le torte esce dalle torte al celibato e tutti questi vengono ingaggiati perché in realtà il disegno di chi li ingaggia è di perdere la gara per l'assegnazione del Catering del G7.